proprio le sue battute punti che comunque ha disseminato durante il campionato ora deve andare a condensare proprio in questa fase importante per la sua squadra Osmani Guantorena forza Guantorena alla grande Parodi in ricezione poi Parodi con le nocche Stokre Guantorena a seconda linea spettacolo, spettacolare veramente spettacolare disintegra il pallone Guantorena una qualità di rincorsa è arrivato ha visto il muro a due alla fin fine è riuscito comunque ad infilare una pipe verso posto 5 con un angolo terrificante guarda come era difficile comunque abilità manualità pazzesca complice comunque un Parodi che non ha avuto fiducia nei suoi mezzi per arrivare a chiudere bene